E' intitolato a Don Tonino Bello il nuovo reparto di oncologia inaugurato presso l'Istituto Tumori di Bari. Dare la migliore terapia possibile, prescrivere la migliore terapia possibile, utilizzare i farmaci più adeguati rappresenta una condizione sine qua non. A questo bisogna aggiungere tutto quello che mette il paziente nella condizione migliore. Si parla tanto di empowerment del paziente, poi si tramuta nel fatto che dobbiamo avere tutti noi l'umiltà di dire che la nostra organizzazione deve assecondare i bisogni del paziente. Non deve avvenire il contrario, cioè che il paziente si adatti, si arrangi sulla base di quella che è l'ottica prioritaria dell'organizzazione. Per la presa in carico globale dei pazienti il reparto affianca le più moderne tecnologie, ambienti confortevoli e accoglienti, parte integrante di un progetto finalizzato all'umanizzazione delle cure. Reparto umanizzato che significa? In sostanza significa una forte alleanza del paziente, che non è solamente terapeutica, quindi alleanza tra paziente e medico, paziente e infermiere, ma un'alleanza con tanto altro, tipo le istituzioni, che ci mettono a disposizione un reparto particolare, un reparto accogliente, un reparto molto bello, alleanza con il volontariato che si è reso disponibile. Al fianco di istituzioni religiose e civili, nella particolare giornata organizzata dalle associazioni Gabriel, donatori di musica e dalla Fratres, l'attore e regista Sergio Rubini. Qui si raggiunge un obiettivo importante, perché era un pallino del dottor Palmiotti da anni, di riuscire a costruire, a mettere in piedi un reparto così, mi sembra una cosa bellissima, sia per chi ci ha lavorato, che l'ha sostenuto, e sia soprattutto per i malati, che poi siamo noi.